La prima regola da osservare è quella di lavarci le mani frequentemente con molta energia, con acqua calda, almeno ogni 30 minuti, sia quando state a casa, sia quando state a scuola o in altre attività. Ci alziamo, queste sono le precauzioni, non vi dovete portare le mani al volto o metterle in bocca o vicino ai occhi. Fatte tutte queste precauzioni siamo all'80% già fuori dal rischio. Ora la nostra regione in questo momento non è inserita, come tutte le regioni del Sud in generale, non è inserita in Sud per protocollo particolare di emergenza. Se facciamo bene la prevenzione, va tutto normale. Quindi domani mattina regolarmente si... Nowi, ora la facciamo bene un po' di più. bravissimi, facciamo la caccia, ma adesso vediamo chi se la cava con quest'altra baci, facciamo la caccia, ma non 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 otto, nove, dieci, cilindro, portala via mamma, undici, dodici, e questo è inizio, prima cosa bikingazze, evitare i piedi liberi a tutti i pc, e questo è inizio, e la benziore di fronte a uscire del Uppiette, con la un sacco del can sozial, il cuore della lomba dei guidimetti mure, viarlò i cammini, andiate a grief, viva qualcosa, per la unica, vincere distezionale, Emo via Noi! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.